Ti presentiamo Copper Chef, la prima padella al mondo antiaderente quadrata in ceramica e rame. È una vera innovazione tecnologica. Copper Chef con bordo alto sostituisce tutte le pentole che hai in casa. Potrai preparare un buon piatto di pasta e quattro formaggi mettendo la pasta cruda direttamente nel sugo. Deliziosa, facile da pulire, dal design innovativo e con la stessa altissima qualità di un prodotto artigianale. E puoi usarla per cucinare sia sul fuoco che in forno. Qual è il segreto? Il rivestimento esterno è fabbricato in rame al 100% e la piastra a induzione fa diffondere il calore velocemente e in modo uniforme. Potrai scottare la carne in un lampo. Copper Chef resiste anche a 450 gradi. Grazie alla sua forma quadrata, con Copper Chef puoi cucinare in abbondanza. Quattro bistecche di maiale non entrano in una padella rotonda. È un prodotto davvero innovativo per cucinare in modo sano grazie alla tecnologia antiaderente della ceramica. Questo significa che niente si attaccherà alla tua pentola. Le uova scivolano come se stessero sul ghiaccio e visto che è fabbricata in ceramica antiaderente non devi aggiungere grasso o burro. Potrai preparare i popcorn senza olio o burro o calorie extra. Il rivestimento in ceramica non contiene PTFE né PFOA che potrebbero finire nel tuo cibo. Pulirla è un gioco da ragazzi e la tua Copper Chef è a prova di lavastoviglie. La base in acciaio è adatta a ogni tipo di piano cottura, elettrico, a gas, in vetro ceramica e a induzione. Ora puoi preparare, cuocere e servire in una grande pentola a grandezza famiglia. Ho già scottato delle bellissime bistecche di maiale. Wow, ma che meraviglia. Guarda che bel colore che hanno. E ricorda Denise, la forma quadrata della padella ci è di grande aiuto. Guarda. Posso mettere in padella tutte queste bistecche di maiale perché ho quattro angoli. Esatto. Il bello di Copper Chef è che è una padella molto versatile, leggera, pratica ed estremamente resistente. I manici infatti ti garantiscono la resistenza che ti occorre quando lavori in una cucina professionale come la nostra. Includeremo anche questo pratico cestello per cuocere al vapore. Prepara un piatto sano e saporito a base di pesce e verdure cotte al vapore nel loro succo. È anche un'incredibile griglia per preparare degli ottimi arrosti. È anche un versatile cestello per friggere. Usalo per preparare patatine fritte, pollo fritto o croccante fish and chips in pochi minuti. Puoi usarlo anche come scolapasta, usarlo per cuocere la pasta. E non abbiamo ancora finito. Includeremo anche il ricettario di Eric. Queste ricette sono state ideate appositamente per il sistema Copper Chef. Sono incredibili e il ricettario sarà tuo gratis. Copper Chef con rivestimento antiaderente è così resistente che vogliamo offrirti una garanzia a vita. Se dovesse scheggiarsi, rompersi o danneggiarsi in qualche modo, ti rimborseremo senza alcun problema. Incluso nel prezzo il coperchio in vetro, il cestello per cuocere a vapore, il versatile cestello per friggere e il ricettario. Chiama subito per informazioni su Copper Chef all'incredibile prezzo che vedi in sovrimpressione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.